Buonasera a tutti, io direi di cominciare, poi intanto chi si collegherà più tardi può entrare quando vuole. Vi ringrazio sempre per partecipare a questo incontro in cui interviene Germana Cesariano, che è arrivata e che saluto moltissimo e che ringrazio per la sua presenza, della cooperativa Magliani Ottanta. Germana ci parlerà nello specifico di intercettazione e accoglienza per quanto riguarda le vittime di tratta di traffico. Quindi senza ulteriori indugi, le lascio la parola. Vi ricordo che le domande, a meno che Germana non voglia fare una cosa un po' più interattiva, saranno fatte alla fine, sia alzando la mano e parlando, oppure come sempre scrivendo in chat e poi io leggerò le domande. Quindi vi ringrazio e ringrazio Germana e le do la parola. Salve a tutti. Una bella esperienza essere qua con voi, anche se su Zoom, come all'inizio della pandemia. Datemi un cenno che si sente che è tutto ok. Ok, perfetto. Allora, una domanda che vi volevo fare è a che livello di intervento di Caritas voi siete in questo momento? Cioè, perché siete interessati a fare questo seminario con me oggi, questo incontro di formazione? Posso rispondere io un po' per tutti. Questo è un percorso che stiamo portando avanti, non tanto come Caritas, ma come il coordinamento diocesano contro la tratta. Quindi siamo noi e altre associazioni. E l'è pensato per chi si avvicina per la prima volta a questo argomento come operatori o come volontari. Quindi sono persone che già operano anche su questo tipo di tematiche, ma che hanno magari interesse a approfondire un po' di più con interventi di persone più esperte. Quindi avete conosciuto don Gian Piero? Eh sì, come coordinamento sì, non tutti i partecipanti però, sì, sì, sì. Ok, lui è stato per un breve periodo parroco alla Magliana, un troppo breve periodo purtroppo. Allora, io sono Germana di formazione professionale, sono una psicologa specializzata in psicoterapia. Ho iniziato a occuparmi di droga da bambina perché negli anni Ottanta c'era il boom della tossicodipendenza, c'era il boom della tossicodipendenza, c'era il boom delle situazioni su strada e noi abbiamo iniziato ad aprire un servizio che è Magliana Ottanta, dal quartiere l'anno, all'interno della più grossa piazza di spaccio degli anni Ottanta all'epoca a Roma, che era appunto Magliana. Se dovesse rinascere occupo Villa Manfili perché bisogna occupare sedi belle, non sedi in prima linea front line che poi hanno un sacco di problemi successivamente di accreditamento ed altro. E quindi abbiamo iniziato a occuparci di droga, vivendo tutto poi il percorso di trasformazione delle dipendenze in Italia, sia come organizzazione di servizi che come modalità di consumo. Negli anni Ottantacinque-Novanta una cosa ha introdotto un grosso cambiamento nell'approccio culturale verso le dipendenze in Italia che è stato l'avvento dell'HV, dell'EDS. Io qualcuno vedo che ha una faccia della mia età, qualcuno invece vedo che ha la faccia di essere mio nipote, quindi ad uso e consumo dei nipoti racconto che prima l'EDS non c'era, è stata una malattia che altro che il Covid adesso, che metteva paura, spaventava, faceva tante, faceva tanta tanta paura il Covid, l'EDS perché non c'erano cure, perché era mortale, perché addirittura nei testi su cui ci facevano formare si diceva le persone muoiono dopo sei mesi che hanno contratto il virus. Quindi immaginate com'era il nostro rapporto quando incontravamo uno che diceva di essere sieropositivo. Adesso per fortuna le cose sono cambiate. E quindi abbiamo dovuto ribaltare il nostro tipo di approccio alle persone tossicodipendenti perché dobbiamo cercare di evitare che si ammalassero di una malattia all'epoca mortale. Questo significava ribaltare completamente l'approccio perché prima si diceva fate terra bruciata intorno alle persone, fate toccare col culo per terra, quando avranno toccato il fondo chiederanno aiuto, allora saremo noi lì con le comunità, con i servizi, con tutta la nostra capacità umana e professionale a dare una mano a venire fuori dal bar, dall'abisso in cui sono loro. Invece con l'avvento della malattia, quindi poi al rischio anche di passare la malattia da chi si bugava, le familiari, mogli e figli compresi, perché in Italia l'AIDS era la malattia dei tossici, non degli omosessuali come nel resto del mondo, perché se la scambiavano con la sierina. Quindi abbiamo studiato e abbiamo approntato un metodo di incontro con le persone che era meno giudicante, meno io ho la verità, tu devi venire da me che io ti porto la verità, ma era più di consapevolezza dicendo ok non è il tuo momento di smettere ma almeno non ti ammazzare con una malattia. Quindi abbiamo studiato, imparato dall'estero alcune tecniche di relazione con le persone e le abbiamo adattate alla cultura italiana. Ci siamo inventati le unità di strada. Considerate che era scandaloso all'epoca per operatori andare a dare una siringa a una persona, perché era come dire drogati, no? Però in realtà attraverso la siringa che noi davamo, attraverso il disinfettante, attraverso il lancio, si iniziava a stabilire una relazione di scambio, oltre a fare un'educativa di comportamenti e di scambio, e questo permetteva alle persone di stabilire una relazione e di poter lavorare su micro progetti, micro miglioramenti a condizioni di vita e qualcuno è anche riuscito ad uscire da sommersi e a venire fuori nel mondo della realtà. Perché questa premessa? Perché 1993 chiediamo all'osservatorio epidemiologico di finanziarci un progetto di intervento nei confronti dei lavoratori del sesso. Eh perché visto che i tossicodipendenti li avevamo intercettati, l'altra grande categoria erano i quelli che avevano una sessualità promiscua, quindi senza precauzioni, e siamo riusciti quindi a fare un intervento e dire proviamo a fare un'opera di prevenzione alle persone che si prostituiscono. In quel periodo si prostituivano le vecchie prostitute romane, Mamma Roma, cito qualche film con Anna Magnani, Giulietta, quella del film Le notti di Gabiria, per citare sempre alcuni film, a due le altre, cioè le vecchie, la vecchio tipo di prostituzione che erano comunque nell'arem del pappone e abbiamo iniziato a dare quindi preservativi e siringa perché poi si prostituivano anche le tossicodipendenti che trovavamo per strada, che cercavano di svoltare la dose in questa maniera. Il mondo cambia, il mondo si evolve, iniziano ad arrivare in Italia le transessuali brasiliane, fenomeno di costume, fenomeno di folklore, iniziano a fare anche alcune persone quello che era uno sceno puttanturra, cioè il giro delle prostitute di sera per vedere quella che era la più figa, la più carina, la più gnocca, la più esagerata. Lo so che è molto squallido quello che facevano, però i puttanturra erano stati un modo con cui ci si divertiva alcuni gruppi di persone. Noi uscivamo per strada e abbiamo iniziato a incontrare piano piano moltissime donne straniere che venivano da paesi in cui era cascato il muro di Berlino, quindi che comunque erano passati da un regime quindi molto totalitario, molto anche controllante, chiuso, che non permetteva spazio, respiro, eccetera. Era il periodo in cui per strada noi trovavamo le donne polacche e ai semafori trovavamo i lavavetri polacchi. Qualcuno a mia età se lo ricorda questo dei lavavetri polacchi o sono troppo vecchia io? Voi non ve lo ricordate? Sono troppo vecchia io. Ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo. Abitavano tutti a Torvaglianica, un certo punto. È vero. Erano tutti espatriati, le osti a Torvaglianica. Osti erano i russi. I russi vendevano meravigliose collane di corallo e bisognava andare la mattina a Porta Portese a comprare affari d'oro con i russi per le collane di corallo. Quindi c'erano queste povere donne polacche e poi c'erano le vittime della guerra in Jugoslavia. C'è il crollo in Jugoslavia del regime di Tito che teneva tutti questi gruffi regionali di cultura, lingua, religioni diverse comunque teneva tutti belli aggregati e compatti si è sfasciato con una guerra di cui noi ci stiamo dimenticando ma è stata una guerra devastante Sebrenica, Vukovic, cioè un sacco di cose orrende perché poi uno si deve ricordare che le catastrofi non sono mai da sole sono sempre poi accompagnate da conseguenze una presa all'altra e quindi abbiamo iniziato a trovare sempre di più persone straniere con la crisi politica in Albania anche le donne albanesi e quando iniziamo a parlare con queste persone intanto avevamo bisogno di mediatori di persone che avessero la loro stessa lingua che avessero il loro stesso colore della pelle per riuscire in qualche maniera a stabilire una connessione e a far sì che loro si fidassero di noi sono iniziate a venire fuori alcune storie di non libertà considerate che la primissima unità di strada quella che è andata avanti al 94 al 97 di fatto prevedeva soprattutto l'accompagnamento sanitario perché comunque ci pagavano per fare prevenzione dell'HV quindi li accompagnavamo ai vari ospedali a fare l'analisi li accompagnavamo al consultorio e negli accompagni venivano fuori le storie drammatiche di queste ragazze sono iniziate ad arrivare anche le prime nigeriane che però all'epoca non venivano dai barconi ma venivano col passaporto, con l'aereo, con la rotta spagnola quindi facevano tutto un altro giro ma all'epoca nei nigeriani erano considerate prostitute esotiche quindi di russo, quindi erano anche pagate meglio e quindi venivano fuori le loro storie anche di paura e di preoccupazione c'era un altro modo di stare per strada capisco che per i nipoti qua presenti oggi alcune cose che dico sono abbastanza anomale ma all'epoca non c'era whatsapp sul cellulare non c'era internet il cellulare era ancora una cosa estremamente costosa estremamente raffinata quindi per strada noi avevamo il gruppo di ragazze che si prostituivano poi divisi in settori c'era il settore dei transessuali c'era il settore dei maschi c'era il settore delle femmine troviamo il gruppo queste ragazze che stavano più o meno a gruppo con una gerarchia di potere al loro interno molto molto forte che era visibile quindi quando diciamo vieni all'appuntamento ti accompagniamo al consultorio ti facciamo fare visita media ti facciamo fare l'analisi eccetera arrivavano accompagnate e si capiva l'ordine di beccata della persona più importante la persona che aveva più potere rispetto alle altre che poteva in qualche maniera governare le cose in alcuni casi loro controllavano anche il nostro materiale prima che noi lo potessimo dare alle ragazze su strada perché era un modo di esercitare il potere man mano sono scomparse i tossicodipendenti che sono andate a prostituirsi in luoghi sempre più appartati sempre più squallidi, sempre più difficili da contattare e da raggiungere cosa che ad esempio è successa con la prostituzione maschile adesso la prostituzione maschile non è più su strada ma è nei bar perché nel bar io posso essere alternativamente il giovane marchettaro quello che ti porta la dose di cocaina quello che ti accompagna a fare il furto con destrezza sull'autobus quindi sono lì multifunzione, multitasking, multi cose all'interno della strada parlando con queste persone questo tipo di persone si vanno a raccontare le loro storie e quindi si è iniziato a pure il problema di che fare quando qualcuno chiedeva posso posso venire fuori da questa vita terrificante perché all'inizio tutte quante avevano un racconto della prostituzione come del mestiere più antico del mondo come del mestiere più bello del mondo cioè comunque dove tanto ti sfruttano sempre tanto sei sempre sfruttata tanto il padrone, il padre, il marito pretende al tuo corpo allora tanto vale che ci guadagno io c'era questo retropensiero e tuttora oggi ho combatto con alcuni ospiti della comunità su questo retropensiero che prevede come la escort è l'imprenditrice di se stessa e quindi è una sveglia che sa campare, sa fare nella fantasia che abbiamo noi poi all'interno delle persone che si prostituiscono rientrano i nostri modelli culturali per cui a mia nonna veniva in mente la traviata le belle di notte, le belle di giorno qualcuno più vecchio si ricorda Pretty Woman quindi comunque la possibilità del riscatto con l'amore eccetera o altre altre forme tipo appunto le notti di Gabiria, Adu e le altre che sono film comunque molto belli che raccontano del passaggio della dalla legge Merlin ad altro la fatica più grande era stata quella poi di dire che si fa con queste ragazze dove dove si portano quindi c'erano alcune case di fuga credo che una delle più antiche è stata casa di Ruth però non vorrei fare un torto a qualcuno dicendo questa come la più antica casa però alla luce del fenomeno di una grande immigrazione di un grande sfruttamento di una grandissima brutalità dei trafficanti perché molte ragazze arrivavano in Italia inconsapevoli addirittura si parlava di tratta delle bianche di rapimenti fatti nei villaggi in cui andavano a prendere ragazzine sprovvedute nelle campagne albanesi le portavano e mettevano su strada le impestavano di botte finché queste non avevano accettato di prostituirsi quindi c'era anche il mito della vittima innocente cioè inconsapevole che veniva a fare la prostituta in Italia o della prostituta per amore mi ricordo io stessa ho interfacciato una ragazza Repubblica Iugoslava che diceva che erano venuti in Italia ma siccome non si trovava il lavoro il fratello era costretto a farla prostituire perché lui non trovava il lavoro era lì che sorvegliava che non succedesse niente di male io in maniera molto provocatoria ho detto guarda anche lui è un bel ragazzo può prostituirsi lui e vigilalo tu mi hanno guardato con orrore perché ho provato a suggerire una cosa del genere nel ribaltare il ruolo comunque visto tutto quello che era successo lo Stato italiano ha deciso di utilizzare di darsi una norma, una legge per riuscire a come si dice volevo condividere un attimo una slide così le sto condividendo le slide no? no se vuoi quali sono le posso condividere io ok e volevo dove siamo? il titolo è allora doppio sguardo tratta? vanno bene tutte e due perché però adesso non riesco a riaprire come faccio a riallargare? sono scema mi sono messa fuori da sola ah ma non vedi più lo schermo? non vedo più lo schermo aspetta forse questa ecco l'ho ritrovato perfetto grazie allora quale preferisci? quella sulla una delle due dove inizia a citare la legge l'articolo diciotto l'articolo diciotto se no ve lo condividete dopo non è un problema cioè assistenza di prossimità vabbè ve lo racconto poi dopo i riferimenti normativi li trovate nel nelle slide comunque lo Stato italiano si fa una legge sull'immigrazione in cui prevede con l'articolo diciotto che le donne o le persone vittima di tratta sfruttamento sessuale lavorativo dimmi se è questo Germano scusami questo è il reato di prostituzione riduzione del schiavito questa è un'altra cosa cioè allora in Italia prostituirsi non è reato normativa di riferimento quello è l'articolo diciotto la slide numero tre siccome in Italia la prostituzione non è reato ma sfruttare la prostituzione sì allora la legge dice che le persone anche italiane comunque che sono vittime di violenza grave sfruttamento sia scopo sessuale o lavorativo la riduzione schiavitù praticamente possono chiedere un permesso di soggiorno per un percorso di uscita dalla loro condizione di schiavitù e di di tratta per motivi sia sessuali che lavorativi questa grazie possiamo togliere che così vi rivedo questa cosa permette di dare un permesso di soggiorno alle persone che collaborano con la giustizia italiana per contrastare il mercato della tratta al mercato della schiavitù ed è stata un'arma potentissima perché erano tutte persone straniere senza permesso di soggiorno che entravano a far parte di un percorso di integrazione di riabilitazione di reinserimento in cui dovevano avere un doppio sguardo cioè uno che era legato all'aspetto della denuncia e l'altro al motivo umanitario cioè se è stata una vittima ti riconosco come vittima e quindi ti do il permesso di soggiorno la legge questo della duemila non è mai stata abrogata e non è mai stata neanche assorbita dalle successive leggi che sono state fatte ma è rimasta e quindi c'è un permesso di dare adesso per motivi umanitari alle vittime di traffico il permesso di soggiorno entrando nei vari circuiti sia i prolimi casa come cambiano i nomi cambiano i nomi nei centri di accoglienza comunque per stranieri che vengono riconosciuti col diritto di avere un documento per stare in Italia nell'altro caso invece con l'articolo 18 c'è proprio tutto un percorso di protezione molto complesso che prevede imparare la lingua italiana prendersi la terza media fare un corso professionalizzante per poter avere un lavoro e quindi avere un'autonomia lavorativa ed uscire e questo ha permesso a tutta una serie di organizzazioni a livello locale nazionale eccetera di gestire le case di fuga le case di accoglienza nel periodo in cui la situazione dell'Europa era ancora l'Europa piccola piccola piccina picciò tutti noi ricchini e simpatici e invece l'Europa povera ibanesi iugoslavi polacchi moldavi eccetera questa cosa aveva funzionato per cui le persone denunciavano il pappone uscivano da una situazione di estrema violenza di estrema anche pressione eh su strada che era veramente una situazione molto veramente sono uno schiavo non ho niente per me tu decidi dove devo stare quanto devo lavorare cosa devo fare non ho margini poi di di uscita e quindi ha permesso di contrastare il traffico di esseri umani chiaramente come noi facciamo un'azione di contrasto e facciamo un'azione quindi di di proposta contro contro la situazione dei dei trafficanti anche i trafficanti poi fanno un'azione di contrasto loro per provare a fare una controproposta e non perdere poi la loro fonte di guadagno considerate che da un punto di vista relazionale mentre i papponi degli anni trenta facevano un po' questa cosa che era il loro are le loro donne quindi il pappone era poi l'informatore di polizia che faceva questo doppio doppio mestiere quindi c'è tutta una letteratura su questo Irma la dolce no che lei è comunque una prostituta che cambia pappone perché si innamora di un altro e quindi a posto di prostituirsi per per quello cattivo si prostituisce per per quell'altro però sempre prostituta facevano anche se era tutto tutta commedia divertente Irma la dolce è proprio antico come come film e cosa succede che il mercato dei papponi capisce che noi abbiamo dato alle vittime un'arma potente cioè ti denuncio ti denuncio e quindi rischio di mettere in crisi tutto l'apparato economico e hanno iniziato ad abbassare il livello di tenute schiavitù delle persone dando la possibilità di patteggiare su una quota parte di soldi che loro possono ottenere e avere a loro disposizione quindi un meccanismo più simile a quello dell'usuraio o se vogliamo usare un parallelo storico a quello che è successo quando abbiamo tolto la schiavitù abbiamo fatto i servi della mezzadria servia greba i lavoratori a cottimo quindi in qualche maniera la condizione poi delle vittime apparentemente è migliore ma mica di tanto perché poi devo pagare lo chiamiamo il tassi cioè la persona che accompagna le persone dall'abitazione al luogo dove si prostituiscono dobbiamo pagare i preservativi dobbiamo pagare chi mi porta il panino dobbiamo pagare il tassi che mi riporta indietro o a casa comunque non pago la protezione però il lampione più bello in qualche maniera costa di più perché comunque anche su strada c'è una una gerarchia di luoghi eccetera e quindi si è ammorbidito però è un rapporto tipo usura perché comunque a queste donne viene chiesto tanto nella prostituzione transessuale e nigeriana intervengono due varianti diverse la prostituzione transessuale prevede anche un un contatto con chi fa le operazioni cioè è legata anche al avere un rapporto con personale medico con medico poi magari non del tutto appropriato però personale sanitario che mi possa fare intervento di plastica al senno di ricostruzione dei fianchi di zigomi questi tutti questi interventi estetici negli anni noi abbiamo conosciuto le persone che hanno fatto i primi interventi di chirurgia estetica da battaglia che poi hanno avuto dei problemi molto grandi perché hanno queste protesi a silicone che si sono guastate sono sciolte quindi poi il silicone fa danni fisicamente al corpo la prostituzione transessuale spesso è associata anche all'uso di cocaina e alcol perché è veramente una vitaccia e poi perché i clienti sono anche propongono anche quest'uso di sostanze per essere più più prestanti per reggere meglio le fantasie possiamo dirlo tranquillamente le fantasie malate delle persone la prostituzione nigeriana invece è legata a un rito che è chiamato il rito dello juju che è un patto di sangue in cui la ragazza nigeriana deve restituire il debito alla mamanna che l'ha portata in Italia e qua interviene poi un passaggio culturale per cui il gestore del traffico è una figura femminile non c'è solidarietà nei confronti da donna a donna per la vita che ti faccio fare una cosa che culturalmente forse andrebbe anche approfondita ma io faccio carriera sulla tua testa quindi arrivano nelle città nei metropolitani vanno nelle aree del metropolitano in cui stanno queste donne che vengono soprattutto alle campagne situazioni economiche molto precarie arriva lì questa donna con occhiali da sole grandi con la c di cucce con la borsetta in pelle con l'abito così la sciarpa tutta distrassa e dice che in Italia è una pacchia e per pochi soldi possono trovare lavoro in Italia cioè le truffano le ragazze vengono pur sapendo che è una situazione di truffa con un'idea diversa della prostituzione non sanno che un'officina una catena di montaggio in una situazione estremamente anche scomoda e squallida perché hanno tutta un'altra idea alcune dopo ammettono che più o meno avevano avuto sentore ma vengono con l'idea di fare la babysitter di fare le treccine di lavorare non sanno quanto costano i soldi che loro pagano di debito perché non glielo dicono in soldi nigeriani lo dicono in euro hai 50.000 x di debito magari in moneta nigeriana suonano poco adesso c'è l'euro e noi siamo abituati a viaggiare con l'euro in tutto il mondo ma quando c'erano i franchi i marchi le sterline le pesetas se tu andavi in giro per il mondo dovevi sempre fare questo calcolo dei soldi perché intanto pigliavi degli abbagli perché andavi a cambiare e ti sembrava guarda costa poco costa uno ma una sterline è un euro e mezzo non è uno quindi c'è tutto questo calcolo sbagliato e per convincerle quindi dell'importanza di stare all'interno di questo sistema di prostituzione venivano legate da un rito che noi diciamo in maniera così leggera voodoo ma comunque un rito di superstizione lo giù giù in cui c'è un patto di sangue che se tu non rispetti la maledizione cade su di te sulla tua famiglia e guardate noi siamo romani quindi siamo scafati da questo punto di vista siamo meno superstiziosi ma in alcuni casi dire non si scende dal letto in alcune famiglie non si mette per terra il piede sinistro perché se no ti va storta la giornata è ancora una regola molto importante il primo piede che bisogna mettere per terra è il destro se no giornata è storta questo livello di superstizione poi lega le persone che in qualche maniera non riescono a lasciare la strada se non in situazioni assolutamente eccezionali fino a che non hanno pagato il debito con la struttura di sfruttamento cambiano le rotte di sfruttamento quindi le ragazze nigeriane non vengono più dalla rotta con gli aeroplani ma vengono con la rotta del barcone quindi noi abbiamo la ragazza il trolley boy che è l'uomo che in qualche maniera la intercetta all'arrivo che sa che la ragazza deve arrivare e quindi la fa uscire dal luogo dove sta e la porta da un'altra parte quindi loro danno un nome si vengono identificate con un nome a volte vero a volte falso e poi da lì spariscono e vengono portate a un'altra parte dove vengono fatte prostituire all'interno della strada poi c'è la little sister che la che ha fatto il primo passo di carriera la mamà e la madama quindi la gerarchia del controllo su strada e anche di interessi economici per chi avesse letto primo Levi il parallelo è quello che c'è nei campi di sterminio cioè gli stessi internati diventavano gli aguzzini diventando capo diventando capo avevano più possibilità di sopravvivere quindi questa è stata un po' la strada quindi interviene la legge sul premesso del soggiorno articolo 18 che viene poi studiato anche da altre parti di Italia intervengono grossi attacchi alla criminalità organizzata che gestisce la prostituzione fra l'altro la prostituzione per la criminalità sono soldi più facili da pulire di quelli della droga comunque ci sono meno meno situazioni pesanti c'è un patto osceno fra la criminalità italiana e la criminalità straniera per cui la criminalità italiana in qualche maniera abdica al controllo delle strade e lascia il controllo delle strade agli stranieri riservandosi il controllo del livello finanziario in questi giorni hanno fatto una grande retata a Roma 83 43 arresti non mi ricordo dove vengono fuori sempre la maggiore prevalenza di albanesi che controllano le strade i nigeriani che controllano il mercato del traffico nelle nostre strade perché perché i nostri preferiscono fare i grossi intermediari non quelli di piccolo livello quindi negli anni 90 nel 2000 il comune di Roma apre il progetto Roxanne e quindi dà un finanziamento specifico per il contrasto alla tratta aprendo delle case di fuga delle case di semi autonomia cioè un percorso di uscita dalla tratta è faticoso bisogna anche lavorare con le persone quindi man mano che acquistano capacità autonomia eccetera le persone poi passano da essere una casa molto protetta molto chiusa a una casa in cui possono invece sperimentarsi con il lavoro con l'autonomia per arrivare poi a vivere da sola in libertà con un permesso di soggiorno definito e stabilito negli anni il dipartimento pari opportunità finanzia dei progetti che prima sono stati finanziati con la provincia con la provincia chiuso quindi sono stati presi dalla regione che sono i progetti antitratta della rete nazionale a cui uno dei servizi che forse conoscete è il numero verde cioè un numero verde nazionale a cui tutti possono chiamare per segnalare situazioni che in qualche maniera interviene per facilitare poi l'ingresso delle donne vittime di tratta all'interno delle strutture se ci sono cose che dovete chiedere interrompere mettete pure un messaggio tanto sono li leggo e quindi posso anche modificare il mio il mio intervento fatelo senza proprio remore perché poi capisco anche se queste cose vi sto raccontando sono già stranote a voi oppure se stavo raccontando cose che sono sconosciute non vorrei raccontarvi la ricetta del latte macchiato col caffè che ci stai raccontando e quindi viene aperto vengono finanziati questi servizi che sono gestiti da enti che sono stati riconosciuti come enti nazionali antitratta cioè ci vuole un'iscrizione a un apposito registro nazionale che tutti gli anni fa un minimo di controllo per verificare che tu sei effettivamente un ente che ha quelle competenze la Caritas Romana come Caritas Solidarietà Lorenzo Chialastri fa parte di questi servizi cioè sta all'interno di queste di queste situazioni ma gli anni 80 nello specifico all'interno di questi progetti ha alcune case di fuga l'unità di strada perché ha mantenuto questa sua caratteristica di lavoro di intercettare le persone su strada e la gestione della unità operativa che è quella che poi fa i colloqui di emersione alle donne cioè la donna che decide di uscire o la donna la trans un uomo che dovesse decidere di uscire in qualche maniera deve raccontare la sua storia in maniera tale che noi possiamo fare una relazione e darla alla commissione territoriale che dice se tu sei una persona che ha diritto a essere riconosciuta come vittima di tratta e dà uno status e la inserisce all'interno di un progetto nell'ambito del comune di Roma il passaggio è più immediato perché può anche essere la forza dell'ordine che fa una retata becca una ragazza per strada lei dice non ne posso più di questa vita e te la portano il caso più buffo è stata una ragazza romena il cui cliente si era innamorato di lei la moglie del cliente si arrabbia perché vede che il marito le mette le corna e spende i soldi va su strada trova questa povera ragazza la corca di legnate poi si rende conto che la donna è una vittima quindi se la porta a casa sua sbatte fuori il marito finché la ragazza è a casa sua chiama le forze dell'ordine e riesce a farle inserire nella casa protetta questa è stata una cosa che a me aveva intenderito molto questa povera ragazza che era stata in qualche maniera aiutata dalla moglie cornificata del suo cliente preferito e e quindi c'è tutta una serie di interviste che devono essere fatte per anche facilitare la persona a tirare fuori il dolore della sua storia e le cose che sono successe perché se una persona si racconta male mh poi dopo si fa fatica anche ad aiutarla non so se qualcuno di voi è partecipato al fondo Gesù Divino Lavoratore nessuno sì io sì ecco il fondo Gesù Divino Lavoratore è stata una proposta di Papa Francesco che poi ha trovato un cofinanziamento nella comune di Roma e nella regione Lazio in cui noi dobbiamo fare dei progetti per aiutare persone vittime della catastrofe covid per avere un un aiuto economico progettuale non soltanto due spicci in mano ma un progettuale per uscire fuori una delle cose più faticose che poi ci hanno anche sgridato la carica centrale alcune difficoltà ammo noi era perché non era proprio un vecchio una vecchia volpe di queste cose come si facevano le interviste alle persone per poter fare il progetto per cui in buona fede molti utenti molti operatori volontari poi scrivevano questa persona è disponibile a fare tutto per lavoro chiaramente disponibile a fare tutto significa che non farà mai niente perché non non entri nel merito delle competenze delle capacità del tempo dei limiti che ha quindi anch'io sono disponibile a fare tutto ha una gamba acciaccata e quindi non può fare i lavori ad esempio di facchinaggio perché c'è una gamba rotta c'è una gamba cioè quindi la fatica anche di chiedere domande di entrare nel merito del percorso delle tappe di evidenziare poi i pezzi di di storia di tratta sono stati molto importanti e questo lo fanno le persone che in qualche maniera anche hanno una loro competenza quindi luto che è una assistente sociale o gli assistenti sociali di vari servizi che hanno fatto una formazione si sono formati sulle linee guida dei referral del UNHCR che ho dato ma più per cultura generale che per una cosa che dovete fare voi perché in realtà non è questo il livello del lavoro quello che invece è importante è il contatto con il numero di verde in cui si possono fare le segnalazioni e il numero verde può provare a inserire la persona in un contesto di fuga o di aiuto l'unità di strada e un'altra cosa che era importante poi sottolineare è quanto le persone che noi incontriamo vengono anche da una formazione culturale completamente diversa noi parliamo una lingua e spesso loro non parlano quella lingua immaginate di fare un'intervista in inglese quando voi parlate solo pigin cioè voi parlate abruzzese o marchigiano e vi arriva uno che vi parla in italiano corretto non sempre si capisce perché uno abituato a parlarsi in famiglia è marchigiano e abruzzese e l'italiano corretto magari non non lo capisce c'è la paura c'è la vergogna no? le ragazze che sono nigeriane che hanno avuto poi un legame di così forte superstizione come il rito giù giù veramente sono convinte che qualcosa può capitare alla loro famiglia se loro in qualche maniera rompono il patto eh prima del covid eh il re nigeriano la Nigeria è una repubblica però nella organizzazione tribale ha queste figure di riferimento che sono dei dei re che sono i capotribù ehm lo dico in maniera molto rosa perché poi non sono un'antropologa eh ma uno dei re più importanti che fra l'altro è stato anche chiacchierato per aver lavorato nel traffico di schiavi precedentemente ha lanciato una eh contro maledizione una oba eh che ha detto che le persone legate dallo giù giù erano libere dal vincolo dello giù giù e che se qualcuno avesse provato a usare lo giù giù contro queste persone la maledizione si sarebbe ritorta contro doppiamente quindi ha lanciato una contro maledizione eh io ho provato ogni tanto a chiedere a qualche amico sacerdote se poteva fare contro maledizioni giocare a fare gli stregoni di esorcismo però non funziona perché ci vuole eh chi sta eh chi sta in in quella situazione lì che può rompere quel rito di superstizione cioè non lo posso fare io non lo può fare eh Don Giampiero non può fare neanche il Papa ci vuole l'oba che dica rompo questo rito giù giù e quindi ha sciolto un pochino da questo da questo vincolo ed è rimasto però il vincolo mafioso cioè mi devi dare i soldi finché non mi li dai i soldi questa cosa non eh non passa eh quindi noi abbiamo adesso attualmente eh una eh presenza su strada in cui alle donne le persone viene lasciata la possibilità di mandare dei soldi a casa le persone non sono più controllate dal gruppo compatto quindi per strada noi non troviamo più le ragazze tutte assieme a gruppi di quattro cinque ma le troviamo che sono in qualche maniera distanziate l'una dall'altra a volte le trans fanno gruppo fra di loro eh salutiamo Stefania che ci lascia le trans fanno gruppo fra di loro ma più per chiacchierare che non per eh così perché hanno un legame interno di di potere e vengono controllate tramite il cellulare cioè eh adesso con le nuove tariffe che ci sono queste ragazze sono in trenne contatto con whatsapp con le linee internet con la famiglia quindi stanno sempre lì che parlano col cellulare stanno sul cellulare si guarda il loro film col cellulare ma sono controllate dai papponi se uno si ferma per qualche minuto di troppo a parlare con loro arriva lo squillo il telefono dicendo chi sono che mi vogliono cosa stanno facendo cioè c'è comunque un fortissimo controllo sempre su su strada allora Maria Teresa dice eh le ragazze non possono intervenire allora eh sì le forze all'ordine possono intervenire e possono anche fare le retate però se la persona è eh minorenne possono portarla nei servizi sociali a identificazione che sono minorenne ehm in realtà le ragazze nigeriane spesso sembrano più piccole della loro età mh anagrafica cioè quello che dimostrano sembrano più piccole ma in realtà sono più grandi e ehm la retata sono tanto eh tanto tempo che non le fanno stanno cercando altri strumenti per così dissuadere dalla presenza dando delle multe che sono fastidiose soltanto poi a lungo andare cioè comunque poi alla fine la la multa va a colpire ehm eh la vittima hanno fatto delle ricerche per riuscire a colpire poi la rete di di traffico però ci vogliono questo è anche l'articolo 18 cioè di intervenire per eh stroncare il mercato del del controllo e le ragazze tendono poi a scappare poi il rischio è che eh vengo allontanata eh scappo vengo presa non denuncio vengo messa in un casse per essere spulsa all'Italia esco dal casse eh e ritorno in un circuito eh un circuito eh perverso credo che eh da questo punto di vista bisogna fare proprio un controllo sempre povero piolatore l'hanno ammazzato per quello perché c'ha controllato i soldi no? Perché la mafia arricchimento è lecito controllate i soldi andiamo a controllare i soldi e questo potrebbe essere un modo di controllare chi c'ha poi il guadagno su questo eh il mercato del traffico è molto cambiato perché le ragazze nigeriane di fatto loro non lo sanno ma hanno ripagato il loro debito prima di arrivare in Italia perché la rotta che fanno le fa diventare schiave in Libia quindi loro finiscono in connection house che sono dei bordelli dove vengono istruite alla prostituzione in qualche maniera mh violentate e fatte prostituire in queste situazioni per cui quando arrivano in Italia il primo trafficante ha già riguadagnato la sua parte il secondo riguadagna dopo e il terzo riguadagna dopo cioè quindi il il prezzo del del trasferimento è suddiviso in diluito in tappe non un po' come il trafficante di droga porta la tonnellata poi c'è chi porta 10 chili chi porta il chilo chi porta letto in questa maniera c'è una diluzione molto anche dell'impresa di rischio per questo è anche difficile che poi il trafficante mette in conto che perde un 10% di persone per strada che comunque gli scappano nel loro bilancio economico questo calcolo atroce c'è quello che sta cambiando è che le famiglie hanno purtroppo una componente molto forte perché le famiglie vogliono i soldi quindi la persona adesso risponde alla domanda la persona che si prostituisce in Italia ha una pressione familiare che continua a chiedere soldi noi vediamo che le ragazze hanno sempre le famiglie che chiamano dicendo ha avuto un incidente papà si deve operare nonno sta male dobbiamo fare funerare all'azio tutta una pressione di mandaci soldi mandaci soldi mandaci soldi e questo poi rende faticosa la situazione poi di fuoriuscita perché significa dire no non soltanto allo sfruttatore ma anche alla famiglia che chiede 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 la domanda che hanno fatto è il meccanismo superstizione si fa fatica a dare una mano a queste ragazze sì è difficile perché bisogna combattere anche con delle situazioni culturali che sono molto forti diciamo che adesso l'editto e l'oba a noi ha dato una mano però chiaramente c'è anche il discorso del perché arrivo in Italia cioè da cosa sto scappando qual è il mio sogno di stare qua perché penso che poi vengo qua e faccio i soldi in una maniera facile no quanto poi questa cosa qua la subisco e la faccio diventare mia nell'esperienza è più facile far uscire una ragazza all'inizio del suo percorso prostitutivo o alla fine perché c'è un meccanismo psicologico di sopravvivenza di ognuno di noi per cui ci si abitua alle cose brutte il momento chi parla gli inviati di guerra dicono c'è un momento in cui la vittima racconta gli orroi della guerra poi dopo diventa normale quindi non ne parlo più poi dopo lo riracconto ai nipoti no però questo meccanismo è un meccanismo di sopravvivenza psicologico per cui poi diventa normale quindi all'inizio mi fa schifo all'inizio è atroce quello che mi stanno facendo non lo sopporto poi stacco la testa e quindi separo il mio corpo e quindi non sento più il trauma no alla fine quando respiro un po' di libertà inizio ad avere voglia di uscire e cerco una strada per venirne fuori per questo è più facile riuscire a beccare le persone all'inizio all'inizio sono molto più controllate proprio per questo motivo perché possono anche scappare via perché comunque è il momento migliore noi le ragazze che siamo riuscite a intercettare prima che il trolley boy le portasse via sono quelle che sono riuscite a venire fuori più facilmente perché non avevano subito l'onta della strada una ragazzina di 17 anni lei non voleva rimanere a Roma perché diceva io vedo nei maschi tutti i clienti e quindi penso che loro mi riconoscano questa cosa la disturbava in una maniera una maniera molto molto faticosa tant'è che lei è poi andata ha chiesto un trasferimento in una casa di fuga a Padova dove lei non si era prostituita e quindi non riconosceva non pensava di riconoscere le maschie che incontrava per strada poi un potenziale cliente le ragazze romene hanno questo sistema di tratta così pesante non in Italia da quello che abbiamo capito il sistema di schiavitù quindi spremerele come limoni e guadagnare su di loro viene fatto in Spagna tant'è che molte ragazze romene parlano spagnolo parlano italiano spagnolizzato perché in Spagna la loro condizione è come quella delle ragazze nigeriane da noi quindi di paura e terrore eccetera in Italia arrivano che sono già abbastanza emancipate e quindi considerano questo come un ciao Flaminia come una situazione di di normalità con cui loro mandano i soldi a casa qual è il problema che finché loro mandano i soldi stanno in Italia e vanno giù soltanto per le feste comandate a tutti sta bene c'è stato il covid la prostituzione su strada non è stata possibile la prostituzione chiusa non è stata possibile perché c'era il lockdown e loro sono andate in Romania perché devono stare qua e il tema della persona che tu sai che fa quella vita la trovi in casa e quindi fa i conti con i soldi che hai preso con cui hai voluto con cui dici si è fatto la casa con cui si è comprata la seconda macchina eccetera diventa un problema culturale di accettare chi poi ha fatto i soldi in una maniera che però è districevole quindi se sei lontano i soldi non puzzano se sei vicino i soldi puzzano questa è un po' la situazione negli anni nei primi anni fino a che l'Europa non si è allargata nelle case noi avevamo un gruppo misto di persone quindi l'italiano era la lingua collettiva le ragazze parlavano italiano fra di loro in sei mesi tutte sapevano l'italiano si allarga la situazione europea le ragazze europee non chiedono più di entrare nella casa se non proprio il tempo necessario per fare la denuncia e poi andare via perché comunque hanno altre risorse nelle case ci sono solo le ragazze nigeriane quindi si crea un doppio binario in cui sembra che le assistive siano solo nigeriane quindi si parla di prostituzione nigeriana quando in realtà per strada il 50% sono ancora romene e c'è stata l'ondata migratoria molto forte nel 2016 in in Italia per cui avevamo veramente tante tante ragazze nuove su strada e la situazione è diventata che nelle case sono solo nigeriane quindi arrivano persone che sono con una cultura una professionalità una scolarizzazione estremamente bassa mentre prima trovavamo donne polacche con la laurea quindi c'è una signora russa che ancora si prostituisce che è una laureata in matematica però non ha trovato altre risorse e quindi è finita su strada in un'intervista c'era una donna ucraina che diceva io ho due lauree faccio le pulizie in Italia è un lavoro mi permette di vivere mantenere i miei figli però io ho questa condizione che le mie lauree qua non valgono niente sono carta straccia quindi non le posso usare le ragazze nigeriane in realtà spesso arrivano che sono analfabete che non hanno neanche l'ABC della penna in mano che non sanno leggere e scrivere quindi il tempo è proprio per aiutarle a imparare l'italiano prendere la terza media imparare a studiare recuperare alcune cose imparare un mestiere diventa estremamente più lungo nei primi progetti noi tenevamo le ragazze in tutto un anno un anno e mezzo adesso le ragazze stanno anche quattro anni è faticoso perché poi cosa succede che nel primo periodo di accoglienza nella casa il rapporto con loro è un rapporto abbastanza anche di di accoglienza e spiegazione eccetera poi noi diventiamo quelli ricchi il tema del risarcimento noi siamo i bianchi ricchi ex colonizzatori che in qualche maniera dobbiamo restituire alcune cose a loro per cui su alcune questioni anche spiegare banalmente che non puoi tenere il riscaldamento acceso tutta la notte perché costa e comunque i soldi sono soldi o non puoi sprecare il cibo perché costa non è che siccome noi siamo italiani e ricchi possiamo buttare e fare i scialoni però questo è un tema di educazione di crescita che comunque abbiamo allora parlando invece di quello che poi uno concretamente può fare io so che alcune parrocchie tipo San Frumenzio avevano iniziato a fare visto che stavano sulla via salaria proprio le uscite con i volontari per andare a parlare con le persone allora quando uno va su strada non vai a offrire la libertà perché in quel momento non ti possono non ti possono dare niente si va e si cerca di stabilire un legame quindi d'inverno ti porto un tè caldo perché magari poter tu che sei costretto a stare lì in non vestita perché alcune cose non hanno neanche un termine tecnico per essere definite né per i zomi né gonne né niente sono semplicemente la l'esposizione al maschio voglioso offrire una caramella offrire un un tè caldo dire una parola comunque significa dare un messaggio che non ci sono solo e soltanto i clienti le forze dell'ordine cattive perché poi c'è anche questa visione delle forze dell'ordine mi chiedevano perché le forze dell'ordine intervengono poco anche perché forze dell'ordine spesso sono ambigui ambivalenti qualcuno ne approfitta si presenta in divisa prima e poi dopo si presenta in borghese per avere prestazioni sessuali a gratis o comunque usano le prostitute come informatori quindi c'è tutta un'ambivalenza del del rapporto con loro comunque significa di avere un momento di contatto e dare questa situazione di relazione umana cioè io sono un essere umano che mi rapporto a te come un essere umano noi diamo anche i preservativi perché? perché dando il preservativo cerchiamo di fare un minimo di educazione di strada quindi un minimo di tutela dalla salute di queste povere donne perché poi facendo due tre calcoli le ragazze si ammalano le malattie venere al di là dell'AIDS sono una marea e loro non sono così esperte da riuscire a tutelarsi no? le vecchie prostitute degli anni 50 degli anni comunque avevano un minimo di infarinatura di base per cui riconoscevano se un cliente aveva le creste di gallo o i condilomi no? queste ragazze no quindi loro subiscono anche l'atto sessuale in una maniera molto più più faticosa perché non hanno neanche quel minimo di scafatezza per farsi fare meno male quindi noi quando andiamo a dare il preservativo cerchiamo di spiegare anche il corretto utilizzo in maniera tale che il preservativo non si rompa che possono avere meno danni usare lubrificanti per avere meno dolore è un modo per stabilire un contatto e stabilire una relazione poi importante mi ricordo quando questa cosa siamo riusciti a dirla a Radio Vaticana non ho detto qua si accendono gli special quando si dice la parola preservativo però in realtà era giusto dirlo perché le ragazze arrivano è andato via il video scusate le ragazze arrivano sane arrivano sane in Italia e si ammalano qua sostanzialmente quindi c'è tutta questa tecnica di dire mi prendo cura di te e ti dico che c'è un altro mondo e quindi dare anche appuntamenti possibilità di venire diamo materiale nella loro lingua il materiale che diamo raramente è il numero verde per uscire perché il numero verde per uscire mette a rischio gli diamo invece un contatto per fare un'analisi medica per avere un aggancio col dottore per per qualche altra cosa che permette di più di di uscire a essere poi considerati sostanzialmente esseri umani e non oggetti oggetti da usare quali sono le accortezze che bisogna utilizzare nell'equip ci possono essere gli uomini ma non possono essere solo uomini perché l'uomo è il cliente l'uomo è il carabiniere l'uomo è quello che mi fa male quindi l'equip o il gruppo di volontari che va e si approccia su strada deve avere comunque la presenza di una donna questo è fondamentale no? perché comunque la donna è rassicurante perché comunque la donna è un una formula di di presenza che non non dà motivo di ambiguità no? uno degli episodi più pesanti che noi abbiamo avuto è quando a un certo punto prime esperienze una mamane in maniera molto provocatoria anche un po' sotto il braccio il mediatore nigeriano lo portò lontano dall'equip come se volesse dire una cosa in segreto gli offrì dicendo scegli te la offro io stasera alla ragazza no? quindi immaginate anche quanto poi c'è la sfida nei confronti di chi poi vuole dare una mano un aiuto o qualcosa quindi su questo l'attenzione è essere sempre un gruppo misto ecco quindi possibilmente in tre non andate in due non andate da soli perché da soli può essere comunque vi dovete tutelare anche voi perché possiamo anche incontrare momenti in cui le persone non hanno voglia di parlare con noi sono arrabbiate con il mondo con la vita e quindi con chi se la prendono con chi si avvicina degli ciao durante il covid le donne transessuali hanno chiesto aiuto c'è stato un parroco a Ardea che gli ha dato una mano la cosa è uscita fuori e comunque abbiamo iniziato a portare anche noi i pacchi alimentari a quelli che stavano chiusi in casa che non lavoravano le ragazze nigeriane sono state prese dalla mafia nigeriana che gli ha semplicemente aumentato il debito non si lavora non c'è problema ogni giorno cento euro e si aumenta il debito quando finisce il covid facciamo facciamo i conti di quanto mi devi dare in più le persone transessuali invece sono trovate veramente alla frutta quindi hanno iniziato a chiedere quindi noi abbiamo portato i pacchi è stata un'esperienza interessantissima perché mentre la sera uno vede queste valchire taco sedici tutte GPR proprio esagerate quando uno va di giorno a portargli il pacco a casa trova la signora Cesira cioè bigodini pestaglietta sciavate cagnetto in braccio e si parla con la signora Cesira di come sta che offre che offre che fai non potevamo bere perché c'era il covid e quindi non era possibile però c'era un'altra tipo di di relazionarsi come persona perché non sono più quella che deve essere in sfida col mondo e dimostrare di essere la donna super figa ma c'erano delle signori normali la sera per stare su strada e reggere il ritmo e reggere l'aggressività del cliente e di quelli che vanno ancora a fare il put-on-tour bevono e pippano quindi dopo una certa ora sono pericolose perché come tutti quelli che pippano cocaina sono aggressivi cioè sono anche fastidiosi noi a Ostia nella Pineta la sera non andiamo perché non ho voglia di avere l'equip che viene presa a sassate andiamo fino a una certa quando il livello di alcol è ancora sotto controllo e quindi possiamo andare perché comunque va tutelato ha tutelato la relazione con loro poi ci stanno nella relazione però quando uno è strafatto non può esserci le donne nigeriane di solito hanno meno uso di droghe le donne romene più più con l'alcol ad esempio una cosa che noi portiamo che è una cosa molto banale è l'acqua d'estate portiamo tonnellate di bottigliette d'acqua e offriamo acqua da bere perché è una ragazza che sta piattumata sulla via salaria sulla via frenestina non si può allontanare la bottiglia d'acqua è un gesto proprio di di minima solidarietà e questo permette proprio di dire esiste un mondo diverso cioè un messaggio di speranza che poi viene viene dato qual è poi anche la la grande fatica che se si lancia un messaggio dicendo ci puoi trovare qua bisogna poi organizzare il qua dove possono venire noi a Roma ci siamo sempre appoggiati al progetto Roxanne e allo sportello del comune di Roma quindi c'era un posto dove loro andavano con la scusa di una visita medica perché poi la scusa è sempre quella però allo sportello c'erano c'erano i mediatori c'erano i consulenti legali c'erano le persone che parlavano lingua cultura religione quindi che sapevano di quello che stavano parlando adesso purtroppo lo sportello è inutilizzato da agosto dell'anno scorso per un problema tecnico di progetti stanno cercando di farlo ripartire così come le unità di strada sono attive solo sulla regione non sul comune di Roma mentre in provincia comune di Santa Palomba comune di Santa Palomba ha finanziato un'unità di strada solo per Santa Palomba perché lì c'è una fortissima prostituzione legata alla zona industriale noi durante il lockdown abbiamo fatto anche una ricerca della prostituzione a chiuso e lì l'ha fatto il nostro operatore santo uomo perché veramente leggere quello che scrivono sui siti di informazione è veramente pesante cioè c'è il trip advisor della prostituzione ci sono i commenti ci sono le prestazioni le tariffe cioè veramente dovrebbero schiattare lì e farne i clienti perdonatemi questa cosa poco poco buona che io dico però il cliente va assolutamente reeducato perché ha un rapporto col sé con la sessualità con la propria vita che è in qualche maniera svilisce c'è il proprio rapporto corporeo cioè uno che mi viene a dire ma in fondo andare a prostitute è un divertimento sano costa poco con 30 euro da spassi e dico ma mortacci tua scusatemi io non sono non sono suore quindi posso permettermi di essere anche cattiva in certi momenti accidente a te è un essere umano non è un pezzo di carne ah ma lei è d'accordo chi te lo dice cosa la convince essere d'accordo i soldi allora qual è questa cultura del dio denaro che ci fa fare delle cose così faticose così pesanti così anche umilianti e che rapporto c'è tu con te stesso allora è chiaro che poi ci sono alcuni clienti che veramente hanno eh hanno proprio piacere a questo tipo anche di rapporto così eh squalido perché poi eh sono rapporti estremamente veloci no eh a noi è capitato di stare parlando il migliorato cos'era con una persona e questa persona ci ha detto aspetta c'è un cliente non andare via due minuti e torno e due minuti esatti orologio dopo era tornato non tutto il mito del sesso allegro delle donnine allegre di questa cosa di allegria eccetera è tutta una finzione che c'è e quindi le persone vanno educate prima che possono orientare i loro stessi clienti nella nostra cultura poi c'è stato tutto una leggenda sullo svezzamento della sessualità attraverso le case i bordelli eccetera c'è ancora una grande componente culturale che dice riapriamo i bordelli no perché il problema non è il rapporto col sé il problema è che mi dà fastidio avere una prostituta sotto casa cioè mi dà fastidio il casino che si forma non l'essere umano allora io lo so che in alcune zone è veramente pesante no una mia collega ha avuto un tamponamento perché sa a sua via salaria questa ragazza nigeriana per disperazione si è accocciata per terra a fare la pipì chiaramente tutti i mastri sono fermati lì hanno inchiodato per vedere questa poveretta e lei ha tamponato quello davanti perché tutti si sono fermati a guardare allora lei dice no basta basta con questo scempio per strada riapriamo le case chiuse no cioè troviamo a capire come può essere fatta un'educazione come si può dare un'opportunità che non sia soltanto dalla miseria queste ragazze offriamo a volte dei lavori a 400 euro al mese come pensiamo che loro si possano mantenere allora c'è tutto un tema di economia di riscatto di intervento sulla società che poi è molto complesso però finché c'è il problema noi vogliamo fare qualche cosa forse l'idea è proprio questa quella di provare a stabilire dei contatti con piccole cose che possono essere di dire riconoscimento del tuo essere un essere umano che è solo che bisogna anche di qualcuno che ti sorrida gratis che ti dia una parola di conforto e che ti dica se vuoi parlare mi trovi questo giorno a questo posto però a quel giorno a quel posto le persone ci devono stare perché dobbiamo essere credibili allora poco proviamo la rete mettiamoci in rete con gli altri servizi se non ce la facciamo noi a farlo ma proviamo a dare poi un tipo di risposta che può essere utile l'altra questione è che spesso e volentieri bisogna provare a fare dei progetti di riqualificazione allora anche conoscere quello che sta succedendo magari nella parrocchia che sta dietro comunque sta dalle parti non euro ma di fronte alla regione Lazio per intenderci loro hanno fatto dei corsi di cucino per le donne del quartiere non c'è nessuna discriminante però sapere che ci sono alcune cose in cui uno può provare a indirizzare le persone magari per fare altro può essere può essere anche utile ripeto per strada adesso ci sono veramente più persone non nigeriane che persone nigeriane e questo poi ci fa porre il problema di cosa facciamo noi per questo tipo di comunità io ho un male qua perché secondo me fra sei mesi noi avremo l'Ucraina per strada perché le persone ucraine purtroppo scappano da una guerra dall'inizio belli simpatici come siamo tutti contenti di vedervi vieni li accogliamo ma poi dopo c'è un problema di sopravvivenza cioè il problema è vero cioè io non posso campare in un cast ma quando mi vengono a dire questi immigrati giovani palestrati con i fondi ultima generazione a cui tu dai soldi a volte i soldi che noi diamo sono due euro e cinque cinquanta no è veramente faticoso dire come fa una persona a mantenersi recuperare una dignità con due euro e cinquanta no poi c'ha il simiti cioè la vecchietta sopra magliana che scende a noi e ci dice dottore cioè lo sa che gli zingari ci danno quarantuno euro per mano tutti i giorni c'è quarantuno euro così ma non è la mano e a noi è una cippa di merlo e lui dice guardi signora che non è vero nessuno dà quarantuno euro in mano agli zingari no 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 me l'ha detto un amico di un amico mio che lavora per lo stato no e allora la signora Roberta tanto cara tanto buona però continua a mandare in giro una leggenda che non è vero perché quarantuno euro sono i soldi che lo stato italiano dovrebbe usare nei progetti per l'integrazione degli zingari in cui si paga la campo rom l'operatore che lo porta a scuola il pulmino l'assistenza sanitaria allora non sono quarantuno euro dati allo zingaro in mano e non la cippa di merlo perché non è così così come con gli immigrati trentacinque euro al giorno ma trentacinque euro al giorno è una complessità chi fa i pasti di solidarietà lo sa quanto costa un passo di solidarietà poi riesco a prendere soldi di moltiplicazione dei panni e dei pesci perché grazie a Dio qualcuno mi regala qualche cosa però se io devo dire quanto costa un passo che dà la Caritas non è gratis c'è il lavoro delle persone c'è l'acqua c'è il gas c'è il riscaldamento c'è il sugo allora le persone che noi proviamo a far uscire che arrivano scappando da qualche cosa scappano e arrivano che in qualche maniera poi a un certo punto hanno bisogno di soldi di sopravvivere per mandare gli affetti in famiglia per rispondere a un sogno migratorio che spesso c'è stato perché dietro c'è un sogno c'è la speranza scappano i sanni scappano i malati tranne una che era Costanz che una storia bellissima Costanz che è rientrato via il video non so perché va via il video Costanz che le diagnosticano una malattia dilatativa del cuore e lei decide che non vuole morire di fronte a sua madre e quindi sapendo scientemente che sarebbe venuta in Italia a fare la prostituta lei era una ragioniera aveva un bel impiego in Nigeria ma in Nigeria gli hanno detto arrangiati qua non possiamo fare niente per il tuo cuore quindi sei destinata a morire e quindi lei si arma di coraggio dice tanto devo morire però va a migrare in Italia dove forse possono fare qualcosa per il mio cuore sapendo che avrebbe fatto la prostituta quindi si fa la Libia si fa la connection house si fa la traversata in barcone si fa la strada in Italia finché il cuore non le regge e viene ricoverata a pronto soccorso e entra nel grande circuito del contrasto alla tratta e quindi c'è anche grande apprezzione abbiamo cercato in tutte le maniere di farla mettere in lista per il trapianto di cuore a Roma ci hanno detto no scordatevelo i cuori sono rari sono pochi sono preziosi quindi si danno a persone affidabili a Bergamo sono stati più gentili ci hanno risposto certo che possiamo metterla in lista d'attesa per il cambio di cuore però deve avere sei mesi qualcuno che l'accoglie a Bergamo e abbiamo trovato la casa che l'accoglieva sei mesi un operatore un familiare un volontario che l'assiste perché sei mesi di riabilitazione posta tra pianto e cuore c'è bisogno deve dichiarare che non andrà mai più in Nigeria perché lei deve essere curata perché la medicina deve continuare a prendere vita contro il rigetto del trapianto quindi si scorda di tornare a casa dai suoi genitori eccetera eccetera e quindi le sue condizioni fanno sì che noi il trapianto siamo disponibili a farglielo ma nella lista lei è l'ultima e resterà sempre all'ultimo posto perché arriverà sempre qualcuno che ha meno sfiga di lei e quindi ha più possibilità di avere questo trapianto prima cioè il fegato si diviene in quattro i polmoni sono due i reni sono due il cuore uno non è divisibile e quindi fregatura Costanz questo forse non lo sa questa è una botta che pigliamo noi operatori che dobbiamo andare in giro a cercare un cuore per Costanz però lei è una donna estremamente vitale estremamente capace poi di avere voglia di vivere e continua il suo progetto cioè continua a curarsi e prende le medicine per contrastare la malattia della miocardite dilatativa e riesce a rimanere incinta ad avere il bambino nonostante fosse controindicato per i problemi di cuore e l'ultimo ci ha mandato una foto meravigliosa in cui lei si è sposata con costume tradizionale nigeriano bellissima perché comunque è riuscita ad avere permesso il soggiorno a trovare una casa a trovare un lavoro per l'italiano cioè è riuscita nel progetto migratorio quindi a soddisfare poi il suo desiderio di essere curata e vivere qua di essere curata sostanzialmente di non morire davanti davanti alla madre però per tante ragazze c'è anche il fallimento del progetto del percorso di uscita per strada noi abbiamo trovato una donna che ci ha detto io sono uscita ho denunciato ho fatto tutto quello che mi avete detto di fare e poi dopo mi sono trovata che non avevo soldi per mantenermi e quindi alla fine poi sono tornata su strada ed è ed è estremamente faticoso questo da accettare però è vero perché il problema è proprio come noi ridefiniamo i rapporti poi di solidarietà di vita economici fra le persone cioè la dignità del lavoro non è che uno sta chiedendo la luna però chi c'è soldi vuole fare soldi sulla pelle degli altri questo è la difficoltà che poi si traduce in leggenda i giovani non vogliono lavorare sono tutti pigri non vogliono fare le cose e questo è un po' il tema io temo che ripeto sono le guerre che portano la guerra la miseria la fame che porta l'immigrazione e a volte anche il falso mito del paese dei balocchi ci sono anche persone che vengono a me piace molto la storia di Pinocchio perché poi ci sono tanti riferimenti che noi possiamo usare anche nella nostra vita no? Pinocchio è bambino ribelle che prima cerca il divertimento si accorge che il divertimento ha la la contropartita perché rischia di finire come ceppo di fuoco per per mangiafuoco prova essere bambino bravo obbediente a studiare ma poi c'è l'amico lucignolo che dice guarda ci sono i paesi dei barocchi cioè quello gli fa credere che se si piantano due gli scudi per terra il giorno dopo c'è ladro con gli scudi cioè tante informazioni anche che sono falsate e comunque sono anche persone che pensano di fare soldi facilmente no? quindi di avere comunque una scorciatoia economica senza pensare che la vita di strada è una vita breve persone che quando hanno iniziato a prostituirsi facevano i soldi con la pala come dicono loro adesso si trovano a stare in miseria più nera perché comunque non hanno avuto possibilità di risparmio di gestione dei soldi perché comunque il messaggio che viene dato è quello tanti soldi si fanno facili no? io mi occupo anche dei tossicodipendenti e lo vedo i ragazzi che ti dicono ah ma fai il palo per strada a San Basilio hai fatto 3.000 euro al mese tu quanto guadagni a fare la psicologa in comunità no? ciao ciao Patrice e questo è un po' anche il messaggio cioè che il soldo è quello che ti qualifica no? anche se non sai fare un tubo perché fare il palo a San Basilio non è un'arte di grande di grande questione però il fatto di avere tanti soldi significa anche avere un senso del soldo che non non ha il giusto valore no? per queste ragazze spesso i soldi non hanno ancora un valore effettivo e quindi poi si trovano a pensare di avere più soldi di quelli che non hanno quindi a non saperli gestire a non saperli organizzare o comunque ad avere sempre altre cose altre scadenze che rimandano l'uscita dalla strada adesso devo comprare la macchina a mia mamma adesso devo fare la casa devo aprire la seconda casa devo fare il garage quindi quando uno domanda a una ragazza romena ma quando è che perché non smetti eh guarda adesso ancora un anno perché devo fare la casa ai miei figli e poi dopo dopo ci vengano poi uno incontra l'anno dopo allora finire la casa sì ma adesso ho il tetto cioè è anche estremamente faticoso per loro poi venire fuori da da questa situazione perché non c'hanno neanche un'identità personale che dire di più è anche una delle cose che dobbiamo imparare è il rispetto dell'altro del dolore dell'altro e della storia dell'altro e questo in tutte le nostre professioni d'aiuto in tutti i nostri momenti in cui noi siamo con le persone questo forse è la cosa più più complessa no di metterci in una posizione di ascolto non giudicante no perché comunque io non sono le tue scarpe non so se avessi avuto la tua vita se l'hai fatto le tue scelte o no no in maniera superba dico sì lo so che non avrei fatto quelle scelte ma chi me lo dice no chi è che mi dice che le condizioni della vita non mi portano a fare compromessi con me no ci sono una delle ragazze che abbiamo assistito lei è scappata dalla Nigeria perché era la figlia che portava la cattiva la mala sorte in casa cioè il padre ha perso il lavoro dopo la nascere questa bambina quindi ha detto questa bambina portata a disgrazia in famiglia quindi è la mala sorte e quindi l'ha ripudiata no e lei è scappata dalla Nigeria però questo l'ha portata a finire in un circuito devastante poi è entrata con noi è riuscita a studiare italiano una ragazza molto sveglia adesso sta facendo il corso per fare la mediatrice no però come fai a contrastare il suo essere figlia della mala sorte o un'altra che figlia di una ragazza madre nigeriana si presenta a quest'uomo e dice sono tuo padre ti porto io in Italia vieni con me e la mette su strada no lei scappa dal primo gruppo di sfruttatori finisce in una famiglia nigeriana che la accoglie a braccia aperte e la rimette su strada cioè questa ragazzina di 17 anni si è passata a tre gruppi di sfruttatori prima di finire in una casa famiglia di accoglienza dove poi è stata in qualche maniera accolta ma continua a credere a tutti c'è una boccalona che tutti quelli che dicono ci penso io a te poi lei gli va presso finisce poi sfruttata e massacrata quindi diciamo che la nostra capacità di ascolto non giudicante è anche una cosa che stabilisce la relazione e permette di avere un contatto e quindi di di avere il tempo per stare un pochino meglio e avere una una seconda opportunità quindi l'importanza di stare all'interno della rete conoscere i pezzi della rete adesso non ve li ho citati se ripristinano il progetto Roxanne comunque è tutto ben condiviso ci sono le slide con come funziona la rete perché poi è molto hard e molto complessa però in questo momento alcune cose ci sono che possono essere utilizzate proprio per dire non sentiamoci soli e cerchiamo di intervenire quando le persone poi hanno bisogno di essere aiutate e riprendo un po' fiato avete qualche domanda che volete fare ad alta voce domande riflessione esperienze forse ringraziarti riflettere un po' su tutte le cose che ci hai raccontato insomma che non sono scontate affatto guarda grazie Maria Teresa qualcun altro vuol dire la sua Silvia sì soprattutto questo fatto che sei entrata molto nello specifico perché noi diamo anche tante cose per scontate non conoscendo poi la realtà dei fatti grazie alle vostre attività proprio su strada si vengono a sapere anche storie e quello che c'è dietro è importante insomma questo aspetto proprio per se dobbiamo entrare in relazione dobbiamo conoscerle grazie insomma intanto grazie a voi per per la pazienza a me aveva colpito una cosa che aveva fatto la la chiesa diciamo così quando sono andati a piantare un fiore dove era morta una povera una povera donna uccisa su strada era una mezza barbona era ispirazione italiana non so non mi ricordo più neanche però era i giardini quelli sulla Colombo non so se qualcuno era prima del covid avevamo fatto questa piccola cerimonia a cui mi sono aggregata di ricordo anche delle vite che nessuno poi l'aveva vista l'avevano trovata morta accoltellata il giorno dopo e nessuno però aveva avuto tempo di andare a parlare con questa persona prima che però lei viveva lì con le sue cose in quella aiuola e lì poi lì vicino si prostituiva perché poi c'è anche questo livello di di povertà nel mondo dei chiamiamoli barboni la violenza sessuale è estremamente diffusa la povertà la povertà poi dei rapporti è proprio anche faticosa da da accogliere e bisogna avere il coraggio di di confrontarsi poi con qualcosa che è proprio lontano dalle nostre vite e io ho trovato molto bello questo gesto di ricordo in cui tutti quanti poi questa piccola preghiera collettiva ricordiamo questa persona che però adesso non si ricorda più nessuno gli antichi si ricorderanno Modesta Valenti che era una povera barbona che non fu raccontata scolta dall'autombulanza perché c'aveva i pidocchi e morì di di pidocchi per la vergogna adesso dedichiamo la strada a lei le strade di senza tetto allora tante volte ci sono veramente delle situazioni in cui noi forse dovremmo avere il coraggio di guardare un po' oltre la nostra la nostra la nostra strada predefinita cioè quando a macerata muore di infarto il signore e muoiono di media il figlio e la moglie invalidi dico ma questi non avevano nessuno che si è preoccupato di loro cioè tre mesi dopo li abbiamo trovati quella signora morta di di infarto serenamente di infarto che è stata scoperta due anni dopo perché un nipote si è preoccupato gli arrivano le bollette a lui no allora forse anche questa attenzione di dire attenzione eh proviamo a guardare anche il nostro vicino a sapere almeno a sapere che ancora vivo ecco non dico interessarci di più no ma non essere così massacrati al fatto che poi il nostro vicino muore e noi non ce ne rendiamo conto no questo è forse forse un aspetto chiaramente qual è poi il quando io parlo sia di tossicodipendenza che di prostituzione a volte mi dicono vabbè ma tu sono professionista quindi l'hai scelto per mestiere c'hai gli strumenti io mi ritiro indietro no lui è un sacerdote l'ha scelto per mestiere lei è una suora l'ha scelto per mestiere possono fare io mi ritiro indietro che cosa posso fare eh nel nostro piccolo a volte un ciao aiuta e forse questo invece possiamo anche dire nel nostro piccolo continuare a mettere le informazioni in circolo cioè probabilmente appendetevi il numero verde nel centro d'ascolto magari a qualcuno può può venire voglia di utilizzarlo chiaramente dire c'è una ragazzina che si prostituisce sulla colombo è poco utile noi siamo andati tante volte abbiamo fatto le segnalazioni minorenne abbiamo fatto le segnalazioni enae raramente c'è stato un intervento poi efficace su questo no però a volte sì a volte qualcuno è uscito fuori grazie a una segnalazione grazie all'intervento cioè sono sassi che cioè semi che gettiamo in questo caso non è colpa nostra se vengono buttati nel terreno dove non fioriscono però almeno ci dobbiamo provare a gettarti ecco questo sì io non so se vi posso ancora intrattenere se dobbiamo chiudere qua se volete chiedermi delle cose se avete domande scusami Germana ti interrompo proprio brevemente prego fatele pure insomma abbiamo un altro pochino di tempo se voi siete disponibili non è un problema un altro dieci minuti buonasera Germana sono Eleonora un'operatrice della Caritas insieme a Lorenzo seguo il piano regionale antitratta e da un punto di vista più progettuale e amministrativo però non proprio con povera è tutta la mia sedere e comprensione la parte peggiore gli scontrini e gli scontri le fatture e la bolla di consegno e al di là di questo è da un po' insomma che mi sto affacciando a questo mondo anche per un'esperienza personale sto facendo una ricerca sulle unità di strada e ho seguito con molto interesse e partecipazione anche il tuo intervento volevo solamente presentarti un mio disappunto personale che magari insomma è più per interloquire ma senza comunque dover arrivare a un punto in comune rispetto alla questione dei clienti cerco un po' di riassumere insomma con le parole di te andrei anche se non c'entra molto che se non sono gigli sono più sempre figli vittime di questo mondo ecco io non sarei così dura nel confronto del cliente non voglio giustificarlo assolutamente perché ovviamente se non ci fossero in questo momento i clienti non ci sarebbe anche la prostituzione questo è chiaro ma la prostituzione da parte di vittime cioè persone in schiavitù perché come hai detto giustamente prima mi permetto di darti del tu e come hai detto giustamente prima in Italia perlomeno la prostituzione non è reato è reato ovviamente l'induzione e la schiavitù verso la prostituzione no ecco tutto qui insomma allora il tema dei clienti scusami poi concludo mi piaceva poterti dare questa osservazione che magari avremmo modo di poter approfondire personalmente in altri contesti insomma possiamo sicuramente nei pochi minuti che ci mancano se ti va e se anche gli altri partecipanti sono diciamo interessati è vero che non se ne parla mai anche di questi clienti no si parla delle donne e assolutamente a fianco delle donne ho partecipato sia con San Promenzio che con Giovanni ventitresimo da novembre esco con loro in strada quindi bianco delle donne però c'è questo mondo dei clienti anche che noi non conosciamo e che lo stiamo interpretando comunque con i nostri strumenti no dall'altra parte del marciapiede quindi bisognerebbe un po' anche ribaltare e mettersi dalla parte del cliente e capire che storia c'è che mondo c'è dietro perché noi non lo conosciamo e se lo conosciamo lo conosciamo solamente filtrato dalle parole delle donne che per carità è giustissimo quello che dicono ma rimane comunque qualcosa di non osservato non conosciuto e se posso permettermi di rubare un altro minuto solamente l'ultima volta che sono uscita una ragazza rumena sulla Palmino Togliatti ci ha raccontato ovviamente c'è una donna che è conosciuta dall'unità di strada di Encolina della giornata 23esima e ha raccontato che lei prende circa 1000-2000 euro al mese da un ragazzo che gli chiede semplicemente di mandargli dei messaggi sul cellulare ma non a sfondo erotico sessuale a sfondo sentimentale cioè ciao piccolino come stai buonanotte cuoricino eccetera eccetera quindi io insomma ci penso molto spesso a questa questa persona non la conosco ovviamente e ce l'ha fatto anche leggere in maniera distante ovviamente quindi era proprio vero questa persona le dà un contributo economico per avere dei messaggi su un cellulare di amore ecco e quello è un cliente comunque è un cliente pure lui e non gli sta chiedendo di vendere il proprio corpo mi taccio per mano no allora tu hai ragione poi io sono quella che dico dobbiamo avere lo sguardo non giudicante quando affrontiamo le donne trans uomini che si prostituiscono e poi dopo snodura con i clienti è vero io in quel momento stavo pensando fisicamente alle uscenità che scrivono i clienti nella chat gnocca.org proprio così la chat dove loro fanno il trip advisor delle prostitute quindi questa fa questa prestazione in questa maniera questo fa questa quella vale poco però così e lì mi fanno proprio male no in rapporto sbagliato con il proprio sesso e l'altro perché comunque penso che tu hai un rapporto sbagliato col tuo sesso così poi ci sono le persone che hanno difficoltà relazionali che quindi io avevo un ragazzo della comunità che tutte le volte parlava una ragazza vomitava quindi una ragazza interessava non tutte le donne però se una ragazza poteva essere potenzialmente una che gli interessava lui prima doveva vomitare poi ci poteva parlare e quindi lui si scusava con me perché ogni tanto andava a prostitute dicendo ma io cerco di essere gentile cerco di scusarmi per il mio si è bloccato Eleonora non so si è ah io ci sono ah ci sei no solo c'era il video che si era bloccato scusami no e quindi anche lui aveva questa sensazione di dire io ho un ho una difficoltà e quindi cerco una scorciatoia no su alcune forme di chat di siti online c'è si dice dominatrice passiva aggressiva G girlfriend experience GE no cioè esperienza fidanzatina perché ci sono anche quelli che sognano di farlo con una vestita infermiere e quelli che sognano di avere una fidanzatina che ti manda i messaggi allora a me fanno veramente male quelli che trattano le donne su strada come pezzi di carne a macellaio no anche a me è chiaro sì no no è chiaro poi quello che invece è un discorso più ampio in cui ci vorranno altro che duemila anni di intervento è un discorso di formazione sulla sessualità perché la sessualità è sempre stata vissuta in una maniera strana cioè le prostitute dei casini erano le donnine allegre il sesso allegro era con quello a casa era per fare figli no c'era come una differenzialità l'educazione eh dei ruoli il disimpegno cioè ehm allora su questo è un po' anche l'educazione educazione al rispetto no io litigo con i maschi della mia comunità perché in qualche maniera loro hanno veramente la divisione le donne le mamme e poi tutte le altre sono puttane no in generale no c'è un rapporto con l'altro sesso legato a eh anche a forme di eh di una visione un po' eh stereotipata di mancanza di rispetto non allora su questo va fatta una una forma di eh di educazione poi hm ci sono anche quelle che scelgono veramente eh in maniera autonoma di fare la prostituta non sono vittime non sono schiave eh c'è il movimento delle sex workers che dice nostro è un lavoro lo scegliamo quindi non rompeteci le scatole su questo eh e loro cercano dei clienti che siano comunque adatti a questo tipo di target va fatta una forma di educazione proprio sentimentale alle persone al rapporto con eh la sessualità la sessualità che non deve essere poi eh una prestazione pornografica perché poi un ragazzino che viene svezzato su YouPorn e ha come modello Rocco Siffredi poi si sentirà un'infriccio tutta la vita perché il modello è irraggiungibile eh è faticoso però parlare di questo perché non ci sono mai gli spazi cioè non vanno educati quando sono adulti vanno educati quando sono bambini perché lì è il momento in cui si educano le persone al rispetto di sé del corpo di quello che significa la comunione con un altro essere umano poi eh eh ovviamente c'è d'accordo con te che gli impianti devono essere fatti nella fascia di età anche 12-16 anni che è la più delicata sia per gli uomini che per le donne perché proprio la scoperta della loro sessualità e quando poi inizi a usarla male se vogliamo utilizzare fra i clienti ci sono anche le donne perché non è solo il mondo maschile che usa il sesso a pagamento no? Fra le clienti ci sono anche le donne e anche lì ci sono le clienti che vogliono avere il boyfriend experience e quello invece che vuole vedere il pezzo di carne comprato in macelleria allora eh ci sono tante tante sfumature tante tante situazioni eh uno dei temi su cui io faccio fatica a dire che sono d'accordo è la riapertura delle case chiuse no? Perché qualcuno dice contro lo schifo della donna su strada che si prostituisce di fronte a una spazzatura riapriamo le case chiuse che è la il minore dei mali lì faccio fatica no? Perché comunque eh ripeto non è un giudizio sulla professione che ti scegli è un giudizio su chi ti sfrutta perché anche lì nella casa chiusa c'è sempre uno sfruttamento e c'è poi un impoverimento delle persone chiaramente noi semplifichiamo con bianco e nero no? e poi ci sono tante tante situazioni diverse cioè quando la ragazzina ti arriva col cellulare in comunità e tu dici come c'è questo cellulare elettrico ho trovato il sugar daddy che me l'ha regalato il sugar daddy è il papino simpatico che ti fa il regalo perché tu gli hai fatto gli occhietti no? ma no cioè allora magari non è squallido non è violento non è degradante come rapporto però è sempre un rapporto in cui tu hai dovuto fare gli occhietti a uno che poi ti regala il cellulare allora anche questo ti questa tematica no? cioè io valgo se tu mi fai il regalo io valgo se tu mi fai il dono quanto poi ci condiziona no? cioè sono veramente temi di una complessità estremamente vasta no? perché poi dopo noi parliamo di prostituzione di donne ridotte in schiavitù e quindi sono soprattutto vittime ma la ragazzina di 14 anni che ai parioli si fa le foto nuda per per qualcosa non ha bisogno di quei soldi no? è un bisogno che gli è stato indotto allora arriva a prostituirsi però lei non si considera una prostituta perché lei comunque ha mandato soltanto il video no? o comunque l'ha fatta in una situazione più tranquilla più elegante meno degradante però è sempre una cosa in cui il senso mio è diventato spostato per il senso del del denaro no? perché magari la ragazzina albanese ha bisogno veramente di campare la ragazzina di perione non ha bisogno di quello per per campare allora perché dove abbiamo sbagliato noi come società come mondo come filosofia quando il consumismo diventa poi la misura di quello che siamo perché il ragazzo di Torbella Monaca è contento avere un iphone da 1700 euro però non paga l'affitto no? cioè questi spostamenti dei valori no? che poi poi ci sono perché tanto affitto non si paga la luce si ruba il lampione però devo avere l'iphone a 1700 euro l'ultima generazione o devo avere il catenone d'oro però vivo in tre metri quadrati di casa allora dove abbiamo sbagliato? cioè quando abbiamo sbagliato perché a un certo punto c'è stato un problema no? le buche abbiamo deciso che colpa di Romolo e Remo che hanno scavato il primo buco per fare le mura della città e lì le buche a Roma sono state cioè e lì sono nate le buche a Roma ma poi no? allora no questo interrogativo io me lo pongo a tanti livelli no? poi mi occupo delle vittime mi arrabbio con i clienti che sono in quello specifico chat veramente disgustosi so che ci sono tante persone che in realtà hanno un problema proprio di relazione con gli altri e quindi cercano scorciatoie sì sono figli non sono gigli ma sono sempre figli no? però D'Andrea diceva anche che una volta le donne per fare la professione devono avere un minimo di passione no? c'era anche questo tipo di aspetto di di alternanza la fatica è questo cioè è chiaro che noi non risolviamo questo con un intervento ci vorranno anni e anni di cultura anni di di cambiamento perché è bello faticoso il tema su cui noi ci stiamo interrogando no? e la prostituzione in passato in alcuni casi aveva anche un aspetto sacro cioè c'erano i tempi della prostituzione sacra che serviva proprio ehm ai fini della divinità non era semplicemente una questione poi di da lumanare di terza categoria ci sono sempre stati livelli diversi di eh degrado di sfruttamento di miseria di scelta delle persone no? perché comunque ci sono alcune persone che dicono io l'ho scelto che gli dici no? è sbagliato no? fatti meno male no? pensa alla tua vecchiaia pensa pensa anche a te e sull'educazione sentimentale è veramente tanto tanto faticoso perché è un tema ehm un tema difficile purtroppo il cliente noi li intercettiamo poco perché comunque non hanno voglia di farsi intercettare non hanno voglia di interlocuire con te cioè mentre la ragazza fra un cliente e l'altro c'ha voglia di chiacchierare il cliente non ha voglia di essere beccato lì mentre sta chiedendo quanto costa una prestazione o dopo che l'ha finita per avere un foglietto che gli dica usa il preservativo in maniera corretta almeno quello abbiamo aperto un mondo di discussione su questo tema dei clienti sì sì immaginavo ci tenevo comunque a confrontarmi anche se per pochi minuti grazie grazie Germana di tutto no prego abbiamo uno spazio per un'altra breve domanda se volete ho visto sorcarla che forse voleva dire qualcosa prima sì è rimasta col dito bloccato forse un problema di connessione non so io vi vedo bene io vedo Germana bloccata vedo Eleonora eccoci perfetto eccoci qui sorcarla aspetta la domanda o la riflessione purtroppo ci siamo di nuovo bloccati e non so che dire non mi sentite? ora sì adesso no di nuovo e forse possiamo fare una cosa potresti scrivere la domanda o l'osservazione in chat io la posso leggere cioè no non ci riesco a scrivere è meglio ho anche scritto prima però non non è la sorcarla prova a togliere il video e a parlare magari riesci collegarti ma nel commento prima sorcarla diceva che le persone vanno aiutate bene no? perché poi aiutarle male non aiuta non aiuta nessuno e questo è un un dato di realtà no? e lì c'è il tema proprio delle delle risorse no? di come si mettono poi in sinergia tutte le risorse perché se sono disperse non sì oh mi sentite? sì ok ci proviamo che vivo sempre perché io comunque noi da qualche anno abbiamo una comunità con delle ragazze e quindi l'esperienza Carla purtroppo non riusciamo a sentirti anche con con il video disattivato vabbè che dobbiamo fare amen eh stavi dicendo che vivi in una comunità con anche delle ragazze vittime che comunità è? mi sentite? a tratti eh osi madre Clelia probabilmente qualcuno perché ci sono niente ma è che peccato mi sembra buonasera grazie di tutto grazie grazie mille Maria Teresa io se non ci sono altre osservazioni o domande a questo punto vi vi saluterei grazie a tutti grazie a tutti due a che Grazie.